I naviganti antichi, i naviganti fenici e greci, si orientavano in mare sostanzialmente con i riferimenti di carattere astronomico ma anche di carattere ambientale. Di carattere astronomico abbiamo innanzitutto le posizioni del Sole. Il Sole all'alba indica ovviamente il Levante, il Sole al tramonto indica ovviamente il Ponente e nel momento in cui abbiamo il Sole allo Zenite, cioè esattamente perpendicolare sull'orizzonte, siamo al Mezzogiorno. Ora, questo è abbastanza interessante perché nonostante bisogna tenere presente che nell'arco dell'anno le levate, gli occasi, cioè i tramonti del Sole, si spostano tra gli estremi sostiziali, cioè l'alba e il tramonto non avvengono mai nello stesso punto ma c'è un notevole spostamento quotidiano e però questo fatto nonostante tutto ha determinato che uno dei principali sistemi di orientamento sia proprio quello di rivolgersi verso le levate e gli occasi del Sole. Non è un fatto casuale che noi ancora oggi per questo genere di attività utilizziamo il verbo orientarsi, orientare che è un verbo poi diffuso un po' in tutte le lingue europee in forme diverse perché orientarsi, orientare vuol dire proprio avvolgersi verso Oriente, rivolgersi verso Oriente quindi è una tradizione che poi ha anche implicazioni di carattere religioso ma è una tradizione antichissima. l'orientamento con le stelle durante le ore notturne era poi un orientamento che si svolgeva su un piano dinamico, cioè non dobbiamo confondere la navigazione astronomica come noi la intendiamo che è un'invenzione moderna, scientifica che avviene diciamo a partire dalla fine del XV secolo, quindi in epoca tardo-medievale con l'inizio dell'età moderna quando ci sono strumentazioni, una cartografia già evoluta e che permettono l'applicazione di questi principi, gli antichi non svolgevano una vera e propria navigazione astronomica, cioè non avevano la possibilità di posizionarsi in mare, ma solo quella di seguire una determinata direzione, quindi una determinata rotta, in base a dei riferimenti di carattere astronomico e ambientale. Questo perché? Perché intanto non esisteva una cartografia nautica come noi la intendiamo e poi perché per rilevare una posizione in mare sono necessari degli strumenti e delle procedure di astrazione diciamo dello spazio a livello geografico che il mondo antico non aveva o meglio non utilizzava, in quanto sappiamo che nell'antichità in epoca ellenistica c'erano elementi importantissimi, illuminati a livello astronomico, a livello geografico, ma ancora non sfruttavano questi sistemi perché probabilmente non ne avevano bisogno, era sufficiente il loro, il modo di navigare orientandosi con gli astri e procedendo verso una direzione, le distanze non erano così importanti, non c'erano permanenze in mare così lunghe probabilmente da dover determinare la nascita di una navigazione scientifica come avendo alla fine del medioevo con la prima età moderna. Oltre alle stelle, come punti di riferimento, c'erano poi tanti fattori ambientali, il moto ondoso, la direzione del moto ondoso, la conoscenza dei venti e del loro regime che varia naturalmente a seconda che ci troviamo sotto costa, dove hanno una loro importante attività e influenza le brezze, determinate dal gradiente varico e quindi di temperatura tra terra, la superficie terrestre e il mare, e invece i venti a largo che rispondono a dei sistemi generali e che quindi hanno una maggiore regolarità e possono essere in qualche modo riconosciuti a livello stagionale da dei naviganti asperti. Infine, l'unico vero e proprio strumento che veniva utilizzato dai naviganti antichi era lo scandaglio. Lo scandaglio manuale a sagola, che è questa sonda di piombo che viene calata in mare per rilevare la batimetria, cioè la profondità, ma non solo, perché lo scandaglio alla base, questa sorta di campana di piombo del peso di 2-4 kg, ha una cavità nella quale veniva inserito del grasso, del sego, grasso animale, e quando questo scandaglio raggiungeva il fondo, con questo grasso raccoglieva un piccolo campione del sedimento di fondo che una volta recuperato, portato a bordo, i marinai esperti riuscivano a riconoscere e quindi a identificare approssimativamente il punto, diciamo, in cui si trovavano in base alle caratteristiche del fondo marino, come se in mezzo non ci fosse l'acqua, come se leggessero una mappa geografica determinata proprio dalla tipologia del fondo marino, quindi possiamo dire in fondo che il più grande strumento nautico di cui hanno sempre disposto i naviganti antichi sia stata la propria esperienza tramandata da padre in figlio per generazioni, per lo più in forma orale, quindi che non ha trovato una vera e propria teorizzazione scritta, e poi il senso marino, cioè la capacità di sentire l'ambiente e di relazionarsi con l'ambiente, di sentire l'avanzamento della propria barca, il modo in cui diciamo si comporta in mare con determinate condizioni, quindi tutta una sensibilità che per la gente di terra veniva in qualche modo interpretata come un sesto senso, cioè come la capacità di interpretare un ambiente anche sul piano meteorologico e sappiamo quanta era l'importanza di fare delle previsioni meteorologiche attendibili in qualche modo, senza nessuno strumento scientifico, ecco questa esperienza e questa capacità di sentire l'ambiente marino era sicuramente lo strumento nautico più importante di tutti i tempi e tale rimane tuttora. Grazie a tutti!